il male da loro. Il male come il bene agisce sempre con fondamentalmente le tre cose di sempre, i pensieri, le azioni, le persone. Quindi noi dobbiamo adesso, oggi, anche soprattutto i nostri figli, insegnare a essere degli spartani, o vittoria o morte, perché ci cerchiamo la vita eterna in questo. Noi dobbiamo proprio capire quando ci dice non temete chi, o non ce lo posso contare, ma temete chi non è.